Museo accessibile e inclusivo che cosa vuol dire per il museo essere accessibile vuol dire essere un museo davvero per tutti dove quel tutti non è generico ma è un'attenzione specifica per ogni esigenza che va dai bambini piccoli agli anziani alle persone con difficoltà cognitiva fisica davvero per tutti quindi specifico e adatto a veramente a tutti perché è importante per il muse questa guida easy to read il muse facile da leggere è un modo per essere fruibile davvero da tutti quel tutti specifico che dicevamo prima per chi non conosce l'italiano può trovare un modo per fruire delle sale del museo in maniera semplice con parole facili per chi è piccolissimo e quindi non conoscere per esempio il termine tassidermia ma anche per chi ha difficoltà cognitive e quindi ha bisogno di una semplificazione assoluta nella costruzione delle frasi e dei termini utilizzati che cosa è importante fare quando si fa un prodotto di questo tipo lavorare con chi della semplificazione ne fa una necessità quotidiana e quindi abbiamo lavorato con i ragazzi e le ragazze di ampas che sono state fondamentali in questo processo costruttivo è stato un bellissimo lavorare dove ci siamo scambiate esperienze e abbiamo capito come comunicare fra di noi in maniera intensa approfondita ci siamo veramente compresi anche nelle cose più difficili in assoluto a livello scientifico questo ci ha permesso di creare questo prodotto e quindi vi ringrazio veramente in modo particolare grazie a tutti